Da un lato ci sono i proclami di destagionalizzazione auspicati da tempo da albergatori, associazioni di categoria e dallo stesso sindaco Andrea Biancani che vorrebbe prolungare la stagione balneare a Pesaro fino a fine settembre. Dall'altro lato c'è però una realtà regolamentare e contrattuale che suggerisce come i prossimi due saranno gli ultimi weekend sulle spiagge pesaresi con ombrelloni e lettini. Dunque, con buona pace di temperature che dovrebbero rimanere alte, risulta difficile andare oltre metà settembre dopo che la nuova ordinanza dell'autorità marittima ha previsto l'obbligo di disporre del bagnino di salvataggio in spiaggia anche il dopo il 9 settembre per consentire di tenere aperti gli ombrelloni. Salvo casi singoli dunque, per le concessioni risulterà dunque molto complicato tenere aperti gli stabilimenti balneari oltre il 15 settembre. Quasi impossibile infatti reperire in maniera organica bagnini di salvataggio last minute. In questi giorni si stanno però moltiplicando le riunioni dei rispettivi consorsi così come la politica sta provando a studiare una mediazione. Secondo i bagnini resta però l'incongruenza di un allungamento della stagione impossibile da pianificare a cavallo di agosto e settembre.